Perché questi giovani di seconda, terza generazione non vengono coinvolti all'interno di quei progetti di emancipazione, di liberazione politica che sono i progetti per esempio della sinistra e perché invece abbracciano quello che io chiamo il terzo sogno, quello del jihadismo, del neocalifato planetario, della neoumma. Questa è una domanda alla quale è difficile rispondere. Certamente non si può non riconoscere che rispetto al primo sogno, il sogno americano, il sogno del capitalismo, il sogno consumo dunque sono, a quella che Benjamin chiamava l'emancipazione infelice del capitalismo, il jihadismo è una risposta, perché è una risposta non solo politica ma una risposta anche esistenziale, nel senso che dà indicazioni anche rispetto a una forma di vita. E quindi secondo me questa domanda è una domanda che dobbiamo porci anche per il futuro.